La Giunta regionale toscana ha messo a punto una proposta di legge che stabilisce nuove regole per disciplinare i rapporti fra le cooperative sociali e gli enti pubblici. La normativa, ora al vaglio del Consiglio regionale, è stata illustrata dall'assessore regionale al welfare Stefania Saccardi, con i rappresentanti della consulta regionale e della cooperazione sociale, FEDER Solidarietà Conf Cooperative, Lega Coop Sociali e AGC Solidarietà. La nuova legge riconosce un ruolo importante alla cooperazione sociale, riservandole una percentuale degli appalti banditi dagli enti pubblici, come peraltro anticipato da un accordo firmato nell'ambito della sanità che destina alle cooperative sociali di tipo B l'8% degli appalti dell'Estar, la centrale acquisti regionale. Il nostro progetto sociale è un progetto di integrazione sociale, non di assistenzialismo, e l'integrazione sociale e l'autonomia si fa molto spesso attraverso l'inserimento in cooperative sociali che hanno appunto come scopo quello dell'inclusione lavorativa dei soggetti con fragilità. Il presidente della consulta regionale sulle cooperative, Luca Rinaldi, ha sottolineato che la nuova legge rimette al centro la cooperazione sociale di inserimento lavorativo, così come nel campo dei servizi alla persona, dà attuazione al principio della sussidiarietà. Si dà priorità alla coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento dei servizi, perciò le cooperative sociali non sono più semplicemente appaltatori di servizi, ma diventano a tutti gli effetti soggetti che insieme al pubblico possono in qualche modo proporre, progettare e programmare i servizi.